Diciamo che per la prima volta Provenzano, signor Fumadore, esce alla scoperta, assumendosi in prima persona delle responsabilità ben precise e nel momento in cui Provenzano, cioè ci dà queste informazioni e queste sicurezze, ci mettiamo in cammino per portare avanti all'interno di Cosa Nostra, il discorso di Forza Italia. Ed anche da Salvatore Cancemi, autista di Riina. Io mi ricordo che Riina mi disse queste parole, queste persone che lui mi ha detto dell'Ute Berlusconi, se l'aveva messo nelle mani lui, nelle mani vuol dire quando uno è disposto a tutto con quella persona, c'è lui nelle mani io, la parola stessa lo dice.